hanno chiuso interi reparti hanno ridotto i posti letto dei reparti tradizionali hanno bloccato gli interventi chirurgici hanno bloccato gli ambulatori per far venire i medici ambulatoriali a fare i medici per i reparti covid arrivano ogni giorno in maniera esponenziale hanno triplicato praticamente i posti di rianimazione volevano chiuderci l'UTIC non so quante UTIC sono state chiuse per cui anche la rete STEMI è stata chiusa e stanno decentrando tutto Niguarda sta scoppiando a 30 intubati covid tutte le rianimazioni sono quasi piene si sta pensando a un numero di triage dei rianimatori per distribuire i pazienti sui letti di rianimazione e decidere chi intubare e chi lasciare morire in cardiologia non ci hanno ancora ricoverato i covid ma è subdolissimo la possibilità di identificarli perché non te ne accorgi non li becchi in un'UTIC abbiamo avuto uno shock cardiogeno per 5 giorni la strada EPA e ieri che gliel'ho ripetuta tutti i giorni l'infettivologo non aveva detto un cazzo il radiologo stasi e congestionale piccolo circolo ieri ho telefonato al radiologo e tu senti questa qua secondo me aveva una polmonite e ci aveva una polmonite ora gli hanno fatto il tampone ma sicuramente è un paziente covid ci metto la mano sul fuoco non si riconosce ma soprattutto voi non avete idea non lo dicono in tv quanti giovani per giovani intendo anche ventenni richiedono la CPAP e hanno delle polmoniti orribili e non hanno comorbidità quanti degli anni 70 nati negli anni 70 hanno polmoniti una marea è inimmaginabile i medici ormai non vengono a parte che non abbiamo i presidi ma non vengono neanche più messi in quarantena o scrinati col tampone e ti dicono se tu hai avuto un contatto e non hai sintomi vieni a lavorare se hai dei sintomi decidi tu se venire a lavorare o se rimanere a casa è tragico adesso stanno assumendo tutti gli specializzanti del policlinico per esempio che la mia morosa è lì e al policlinico c'è un solo padiglione su tre o quattro che non è destinato ai covid si aspettano 50 polmoniti al giorno è drammatica la cosa non la si dice in giro bisogna assolutamente che la gente lo capisca ciao a tutti tutte e tutti non so a chi verrà destinato questo messaggio ma Katia mi ha chiesto di di mandarle una nota audio un po' esplicativa di quello che sta succedendo io sono Martina sua cugina alcune di voi mi conoscono altre no forse solo per sentito dire e faccio il cardiologo in terapia intensiva a Milano allora la situazione è molto seria nel senso che fondamentalmente questo virus che sta girando è estremamente contagioso è vero che in tanti non causa sintomi è vero che tanti se la cavano senza troppi problemi ma è anche vero che tante persone sviluppano quella che si chiama una polmonite interstiziale bilaterale che fondamentalmente ha bisogno di un supporto ventilatorio non abbiamo farmaci perché è un virus quindi gli antibiotici non funzionano stiamo dando dei cocktail di farmaci che si usano in virus tipo l'AIDS ma in via del tutto sperimentale non sappiamo se funzioneranno o no l'unica cosa che si può fare in questi casi è intubare il paziente e quindi far respirare la macchina mettendo a riposo i polmoni aspettando che il sistema immunitario lo sconsiglia è vero che quelli che muoiono sono spesso anziani e con copatologie ma ci sono anche tanti giovani in terapia intensiva il nostro più giovane ha 38 anni e non aveva altri problemi il problema vero è che tanta gente ha bisogno dell'assistenza ventilatoria e non ci sono ventilatori per tutti già ieri nel mio ospedale mi hanno chiamato io sto nella terapia intensiva cardiologica chiedendomi di dargli uno dei nostri ventilatori ne abbiamo solo due rimasti e io glielo ho dato e una paziente che era stata estupata il giorno prima e quindi in questi casi non realmente si tiene il ventilatore lì vicino perché a volte vanno in crisi e devono essere rintupati se questa va in crisi il ventilatore non c'è fondamentalmente ci hanno detto che da questi giorni dovremmo iniziare a scegliere chi intubare quindi privilegiamo i giovani e quelli senza altre patologie anni guarda che all'altro ospedale grande non intubano più oltre i 60 anni che è veramente veramente giovane come età per cui la situazione è molto seria molto contagioso 14 giorni di incubazione quindi se anche una persona se l'è preso sta 14 giorni completamente asintomatico e può infettare un numero incredibile di persone per cui il concetto è che l'unico modo per non avere unicatumbe è far sì che ci siano meno contagi possibili e che quali ci dovessero essere fossero più possibili dilazionati nel tempo in modo che perché se io ho 10.000 persone infette tutto allo stesso momento noi abbiamo 3.000 ventilatori in Italia se 10.000 hanno bisogno di essere intubati e ventilati 7.000 muoiono se invece riesco a diciamo spostare più in là il contagio ridurre la velocità di contagio quando si ammalano i nuovi i vecchi già intubati verosimilmente saranno guariti e avranno liberato il ventilatore l'unica cosa che si può fare sono le cose che stanno già dicendo in giro quindi stare a casa è vero niente cinema niente mostre niente passeggiate in giro negozi meno possibile scuole chiuse calcio pomeriggio chiuso niente cene fuori evitare il più possibile di stare a contatto con altre persone lavarsi le mani funziona bene il sapone e le soluzioni alcoliche quindi tipo la buchina il virus un po' sulle superfici rimane ma resiste 30-40 minuti l'unico modo per essere sicuri di bonificare è con la candeggina lavare con la candeggina e lasciare a contatto la candeggina per 30 minuti e fondamentalmente voi a Roma state come stavamo noi a Milano dieci giorni fa ed è sicuro che in dieci giorni c'è stata un escalation incredibile della cosa e la Lombardia è il collasso è la regione che a livello sanitario sta messa meglio per cui non posso pensare cosa potrebbe succedere se la cosa si estende alle regioni meno efficienti per i bambini non ci sono casi gravi alcuni bambini sono positivi ma tendenzialmente come con tutte le virosi tipo varicella morbillo o quant'altro tendenzialmente anche se se le prendono sviluppano una forma molto meno attressiva dell'adulto però sono degli utori pazzeschi perché magari il bambino se lo prende non sviluppa sintomi va dai nonni uccide i nonni connettamente quindi anche lì cercare di limitare il contatto bambini nonni e quindi senza farsi prendere dal panico però non è una cosa che va sottovalutata quindi chi può rimanga in casa il più possibile senza vedere nessuno e niente poi se avete domande dubbi perplessità io sono qui e continuo ad andare in ospedale e niente vi aggiornerò tramitecate sulla situazione